Sono socio Banca di Parma perché reinveste nel territorio. Perché è la banca che mancava. Perché sostiene le imprese del territorio. Perché è la banca che cercavo. Perché è vicina alle persone. Perché non specula e non ha derivati. Perché mi aiuta a costruire il mio futuro. Perché è la nostra banca. Banca di Parma. Le persone al centro. Grazie a tutti.